Villetti a schiere e resorta il Cavalluccio, splendido promontorio della costa dei Trabocchi, luogo particolarmente appetito per la sua posizione che guarda d'oriente sul golfo di Venere. Sulla piana sovrastante la Falesia, oggi caratterizzata da Uliveti, sorgeranno 14 villetti a schiera e un albergo a 5 stelle con ristorante, piscina, sala convegni, con il progetto già presentato e con ogni autorizzazione approvata. Il comune di Rocca San Giovanni, nel piano regolatore del marzo 2011, aveva destinato il promontorio a vocazione turistico-residenziale e non più agricola. Nel 2013 il Consiglio Comunale ha approvato la valorizzazione dell'area a scopo turistico. In passato costruzioni residenziali al Cavalluccio scatenarono levate di scudi da parte di associazioni ambientaliste e privati cittadini in netto contrasto con la cementificazione del promontorio. Il sindaco Gianni Di Rito sottolinea come sia stata stipulata una convenzione con la ditta che ha avanzato il progetto, che prevede la realizzazione di parcheggi e aree verdi per il bene comune. La soprintendenza archeologica ha dato parere favorevole. Il primo cittadino. Se si vuole por pensare ad un problema di dissesto idrogeologico e quindi alla pericolosità di una zona che può franare o meno, tengo a precisare che anche in questo caso ci sono le autorizzazioni previste dal genio civile. In più c'è uno studio fatto da geologi esperti del mestiere, i quali addirittura raccomandano, anzi, diciamo quasi ordinano tra virgolette, una distanza di oltre 20-25 metri dalla zona rossa che la regione ci ha dato. Dice che si tratti di una cementificazione di uno dei promontori più belli d'Abruzzo? Allora, innanzitutto non è vero e invece si dà una qualificazione, perché l'opera bisogna vederla prima di criticarla e si dà una qualificazione turistica a un'area sicuramente bellissima, sicuramente uno dei punti più belli della nostra costa. Però l'importante per noi è non rovinare questa bellezza. Se poi riusciamo a qualificarla senza danneggiarla, penso che siamo nel giusto.